rieccoci amici con un altro video di liquidi oggi andiamo a vedere il signal man signal man di steam train qua sopra vi lascio riferimento agli altri video della stessa compagnia di liquidi ed è questa è una boccettona da 100 ml di aroma e base già incorporata a cui aggiungere due booster da 10 ml ciascuno con o senza nicotina sempre come vi pare a voi per arrivare a un totale di liquido da 120 ml una buona scorta da portarsi in giro non è comodissimo ma ci si può anche portare 120 basta che 60 se è buono il liquido lo si porta quindi adesso solito giro e poi lo assaggiamo il signal man eccola qui la boccettona da 120 ml dal nostro signal man by steam train signal man che poi tradotto dall'inglese è letteralmente l'uomo dei segnali che dava le indicazioni quando non c'erano non c'erano ancora i segnali elettronici ai treni di eventuali pericoli sulla linea piuttosto che in uscita alle gallerie di solito robe del genere poi in entrata alle stazioni quindi questo signal man è praticamente semplicemente se volete aromi di fragole e panna fragole con panna classicissimo inglese come dolce che si va si assaggia anche tranquillamente campionati di tennis di wimbledon dolce che va per la maggiore ovviamente per chi è appassionato per chi non lo sapesse adesso lo assaggiamo allora io l'ho testato da qualche giorno non ci ho messo molto a capire che è veramente un buon liquido è veramente un buon liquido già dalla prima svapata che ho fatto di prova nei negozi smokies come sempre sono rimasto proprio convinto di quello che stavo svapando nel senso fragole con panna preciso non ci sono cose dietro strane o sotto che dicano che è diverso da quello che dichiarano e da quello che ho provato ed è veramente buono le fragole secondo me c'è un misto di fragole matura e fragole normale che ci sta veramente bene la panna sotto cremosa si sente molto bene molto ma molto bene è il bx è micidiale ragazzi è buonissimo veramente buono veramente in cloud poi se andate su di vattaggi esce proprio fuori tutto cioè proprio si apre tranquillamente come aromi e si mischiano perfettamente anche in bocca rimane molto buono il sapore dopo la svapata se vi piacciono le fragole signori questo è un liquidozzo che fa al caso vostro è veramente veramente buono quindi andate ad assaggiarlo mi raccomando nei negozi fatemi sapere se vi è piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate di questo liquido e noi come sempre con la super svapatona finale ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao